Allora abbiamo un po' accennato appunto prima con Francesco Dall'Aglio il fatto appunto l'ultimo episodio sul fronte del mercato globale delle derrate alimentari, non si capisce la logica per cui a un certo punto sono esplosi i prezzi, si è dato la colpa alla guerra in Ucraina, però in realtà il legame tra queste due cose qua quando uno poi va a spulciare un attimino i numeri è tutt'altro che evidente se non completamente smontato dalla realtà, quindi che cazzo è successo? Ma è successo quello che sta succedendo per gran parte delle produzioni mondiali, almeno per l'energia, per le commodities, sta succedendo che i mercati reali non hanno nessun tipo di incidenza sulla determinazione del prezzo, Questi prezzi sono prezzi fatti in sede speculativa, sono fatti prevalentemente utilizzando quello strumento che si chiamano le opzioni, che sono appunto opzioni di vendita e di acquisto che poi non si traducono mai in una vendita e un acquisto reale, ma che vengono vendute poco prima del loro tradursi in un acquisto e determinano il prezzo, sono opzioni che hanno scadenze più o meno lunghe in genere, più o meno lunghe intendendo da qui a due o tre mesi, su quelle opzioni, su quelle scommesse di fatto di prezzo determinato da qui appunto a due mesi, tre mesi, si assiste a un fortissimo rialzo dei prezzi, del resto questo era già avvenuto appunto quando c'era stato il blocco dei porti del Mar Nero, la produzione mondiale è grossomodo 2.800 milioni di tonnellate, quelle che lì venivano bloccate da diversi mesi non arrivavano a 25 milioni e nonostante questo i prezzi erano saliti nel giro di poche settimane del 60%, cioè è evidente che non era la carenza di quel blocco che determinava l'andamento dei prezzi, peraltro i grandi esportatori sono tradizionalmente la Cina, gli Stati Uniti, l'Australia, quindi in realtà che in qualche modo non erano assolutamente interessati al blocco, si trattava di quantità facilmente sostituibili, però appunto c'è il mercato delle scommesse finanziarie che ormai si è raffinatissimo, come prima dicevo ci sono le opzioni, ci sono i derivati che sono delle scommesse fatte addirittura sulle opzioni, ci sono gli etf che oggi sono di gran voga, vengono venduti anche online, che sono le scommesse delle scommesse, cioè scommesse che scommettono sul fatto che l'indice dei prezzi dei beni agricoli sia destinato ad impennarsi, quindi non c'è più nessuna dimensione reale e questo è oggettivamente drammatico, perché quello che una volta era il mestiere del mercato, di definire un prezzo più o meno credibile in base alla domanda dell'offerta reale, oggi il mercato non è altro che un luogo dove i prezzi vengono confezionati da soggetti che in base alle aspettative più o meno credibili determinano queste impennate. Quanto è che a un certo punto la produzione alimentare è diventata produzione di commodities come qualunque altre e allora io speculatore mi c'infilo e invece quanto non siamo di fuori a essere complottisti e direi che anche la riforma dell'economia reale vedeva già lì, nell'obiettivo era già creare le precondizioni per cui alla fine sarebbe stato il giochino della finanza a estrarre il valore. Penso che sia abbastanza evidente, la storia della globalizzazione, la globalizzazione ha vissuto una prima fase nella quale c'è stato un processo di omogeneizzazione, quella che tu dici trasformazione in chiave di commodities di buona parte delle produzioni agricole, questo è stata una fase ovviamente che era mirata anche a costruire un mercato più largo, cioè creare gusti e consumatori che fossero disponibili in più parti del mondo a consumare la stessa tipologia di beni, l'omogeneizzazione, appunto fare un certo tipo di grano che era quanto più possibile simile andando a intaccare la biodiversità, peraltro dentro ci stava anche la vicenda degli OGM, degli organismi geneticamente modificati, cioè è chiaro che c'è stato dentro il tema del land grabbing, cioè delle terre comprate sotto prezzo, cioè quella è tutta una fase della globalizzazione che comincia a metà degli anni 90, si sviluppa poi nel corso del nuovo millennio e si sovrappone, o meglio si concatena con la finanzializzazione, perché le società che fanno questo tipo di attività da Cargill alla sequenza infinita sono ancora una volta partecipate dai grandi fondi, cioè è evidente che il disegno è quello, è brutta l'espressione, ma di utilizzare fino in fondo la mucca da mungere, cioè la trasformazione in chiave industriale e omogeneizzata dell'agricoltura crea quei meccanismi che sono meccanismi di proprietà finanziaria, la proprietà finanziaria ha certamente la capacità di manipolare anche l'andamento del complesso delle scommesse con le notizie più o meno veritiere sull'approvvigionamento anno per anno di questi grandi raccolti e di lì si costruiscono i circuiti, cioè pensare che non ci sia, qui non è un fatto di complottismo, basta vedere quali sono gli apici di questo processo produttivo, il processo produttivo è fatto da grandi società che comprano terreni, che individuano la necessità di biotecnologie, che limitino appunto la biodiversità, che rendano più monopolistico questo ambito di produzione e quindi se ci sono pochi produttori e il bene ha la fisiologia delle commodities, le scommesse nel momento in cui si fa circolare la notizia che c'è una parzialissima carenza che però può diventare una falla più alta e questo porta il prezzo più su, ma già la natura stessa dei monopoli portava il prezzo più su, la natura all'origine, questo è stato studiato anche lungamente, all'origine l'idea di concentrare in poche mani la produzione complessiva del grano mondiale serviva per tenere altissime le azioni di quelle società e per altri versi di cominciare a scommettere sull'andamento dei titoli di quelle società, perché i primi derivati si sono costruiti in quel caso sui titoli di quelle società, in maniera tale che crescevano le azioni, si scommetteva sul rialzo delle azioni e quindi di conseguenza si guadagnava sulle scommesse e alla base c'era un'economia che era un'economia monopolizzata e trasformata in commodities, quindi il meccanismo è un meccanismo che certamente è tenuto insieme e sono d'accordo con te nel dire che con un meccanismo di quel tipo poi è più facile veicolare notizie del tipo beh forse il raccolto del prossimo anno potrebbe avere qualche lacuna, peraltro anche qui ciò che sta funzionando sempre meno sono invece le antiche borse merci, perché una volta c'erano le borse merci sul modello appunto delle grandi borse dove avveniva lo scambio reale delle sementi, oggi la vera dinamica si fa sui future, sulle sementi e su sementi che poi alla fine non vengono mai consegnate, cioè paradossalmente appunto sulle famose opzioni d'acquisto quindi anche le vecchie borse che erano l'obiettivo degli attentati terroristici perché rappresentavano il luogo di determinazione del prezzo oggi sono state scavalcate da altre sedi che sono invece le sedi finanziarie dove non si discutono le partite di prezzo reale come la borsa di Chicago, ma si discutono le partite di prezzo opzionate dai derivati che è l'ultimo approdo quindi certamente aver confezionato un'agricoltura monopolistica, monopolizzata e costruita su una filiera che è quella delle commodities rende più facile e anche più controllabile perché un mondo nel quale evidentemente ci sono tanti luoghi di produzione, tante risorse diverse è più difficile far partire la paranoia di venire meno di produzione e quindi di speculazione a rialzo per usare un termine abusatissimo sono più resilienti esatto e comunque appunto questa è proprio la base diciamo ci avevano visto lunghissimo i contadini analfabeti senza terra della via campesina di 30 anni fa quando appunto introdussero il concetto di sovranità alimentare che è proprio la risposta a questa cosa qua nel senso lo si sa a noi cosa serve alle nostre comunità e come farlo eccetera ora 30 anni dopo lo stesso governo diciamo che 20 anni fa ci ha quasi ammazzato dalle mazzate in piazza perché con quelli della via campesina parlavamo insomma di un altro mondo possibile ci rubano quella parola d'ordine e gli dedicano un ministero che differenza c'è tra il concetto originario che appunto smonta queste logiche sia di concentrazione che della speculazione che ci si può far sopra che era appunto il nostro il concetto della sovranità alimentare portata avanti dal movimento dei veri contadini rispetto a questa roba qua che mi sa tanto invece di difesa del made in Italy intensivo fuori dai vincoli europei che ogni tanto diciamo una delle poche cose che ogni tanto l'Europa fa di buono è cercare di fare delle legislazioni dal punto di vista sostenibilità ambientale immediata diciamo che fanno fare un passetto avanti a qualcosa invece mettere da parte anche quello proprio alla mera con l'unica finalità di difendere i produttori italiani ma non di cibo per gli italiani ma di altre commodity come ha fatto l'esempio nel video del prosecco ma insomma se ne possono fare tantissime idee del pomodorino pachino in Sicilia piuttosto che e quindi quanto ci ha fregato quanto proprio ha preso un termine che non c'entra niente con l'idea che hanno in mente lui No, questa è veramente una mistificazione clamorosa del linguaggio cioè nel senso è veramente i pericoli che tu paventavi sono assolutamente reali la sovranità alimentare è un concetto che nasce come strumento di difesa della globalizzazione banalizzando ma è evidente cioè sia come difesa della produzione indigena rispetto al processo di omogeneizzazione forzata che superava la biodiversità sia come tentativo di garantire una remunerazione della manodopera contadina che veniva travolta dalla trasformazione di questi soggetti insalariati delle grandi multinazionali che facevano l'angrabbing e che trasformavano intere zone in aziende di proporzioni gigantesche e omogeneizzavano perché poi volevano finanzializzare questo è evidente, quella è una storia che inizia appunto con gli anni 90 che in modo particolare nella coscienza si sveglia negli anni 90 e è oggetto delle grandi lotte appunto da Beauvais a Vandana Shiva alle popolazioni appunto ai semterra dell'America Latina ed era veramente la prima grande ondata di resistenza rispetto a un processo che già aveva fatto capire di voler legare l'intensificazione, l'omogeneizzazione delle coltivazioni con la finanzializzazione non a caso allora si comincia a parlare di Tobin Tax quindi è quel mondo lì, è un mondo di resistenza profondamente antiglobale anticapitalista, antimercatista, antifinanziario quindi tutto questo non c'entra nulla con una dimensione di un sovranismo alimentare che anch'io l'impressione si traduca fondamentalmente in una sorta di ricerca di autarchia sottomentite spoglie, cioè cerchiamo di produrre italiano quanto più possibile, andiamo in deroga alle quote europee andiamo in deroga alle normative europee cerchiamo di in maniera un po' ossessiva appunto spingere una produzione nazionale che però poi rischia di essere per certi versi ma poi è destinata in buonissima parte all'export perché appunto non c'è sì, è destinata all'export però con una preclusione che per esempio la figliera della sovranità alimentare non aveva cioè l'idea che bisognasse nel caso italiano il tema abbastanza evidente mi sembra sia quello di dire cerchiamo di non importare più nulla dall'estero cerchiamo di fare tutto quello che possiamo fare da soli che è un disastro per un'agricoltura come quella italiana ma questo non lo dico io, lo dicono gli agronomi perché l'Italia ha bisogno di una contaminazione per quanto riguarda determinate materie prime determinate produzioni agricole sta anche nella nostra ricchezza ecco non possiamo pensare che un paese come il nostro dal punto di vista geomorfologico e geopedologico non abbia la possibilità per esempio di importare il grano noi storicamente quando abbiamo cessato di importare il grano come nel periodo mussoliniano abbiamo fatto un disastro il paese ha bisogno di non sottrarre ettari alle coltivazioni specializzate per produrre beni che può comprare tranquillamente da altre parti naturalmente in un mercato che non è un mercato finanziario ma in un mercato reale i campesinos pensavano che avrebbero dovuto coltivare ciò che sapevano coltivare e le loro terre ma questo non voleva dire chiudersi al resto del mondo in una sorta di ricerca di totale autosufficienza anzi nella logica del diritto al cibo c'era anche il fatto che dovessero essere nelle condizioni di poter comprare alcune cose che non era corretto che producessero autonomamente quindi è una evidente falsificazione la sovranità alimentare è un concetto profondamente antifinanziario, anticapitalistico, antiglobalista io non penso che il governo Meloni sia un governo anzi mi sembra che le misure proposte siano molto in linea con l'agenda Draghi in sostanza si tratta di ridurre il carico fiscale e anche quelli che sono gli incentivi sociali trasformarli da incentivi sociali a isenzioni fiscali che mi sembra abbastanza emblematico quindi è un modello che con la sovranità alimentare non c'entra veramente nulla è pura mistificazione è pura mistificazione